ciao a tutti ragazzi eccoci pronti per iniziare fatemi sapere se mi state sentendo se vedete la schermata stiamo per iniziare bene così poi cominciamo scrivetemelo in chat, grazie bene eccoci pronti ciao bentornati sul canale youtube di associazione culturale maggiolina anche questo martedì sera come sempre ormai da anni possiamo dire, siamo in diretta oggi è il 26 novembre e in questo momento sono le 20 ora in cui comincia la nostra diretta fatemi cambiare la schermata così vado a vedere subito la chat eccomi qua, posso già ringraziare Jacqueline grazie infinite Jacqueline per l'uso della super chat che come sapete per noi è di vitale importanza quindi il vostro sostegno per noi è importantissimo alle mie spalle state vedendo il sito amici di Maggiolina è il sito che abbiamo dedicato a chi ci sostiene con super chat o in altri modi in cui c'è la possibilità di vedere in maniera più organizzata i video presenti sul nostro canale penso che ormai lo sappiate quasi tutti ma sono più di mille ormai i video che abbiamo caricato nel tempo sul canale qui li troviamo organizzati cronologicamente e per argomento vi faccio vedere velocemente di cosa si tratta così poi andiamo verso l'argomento della serata allora al momento siamo organizzati così all'inizio del sito in entrata del sito c'è il video pubblicato in giornata quindi questo corso di Excel il numero 80 è uscito oggi nel pomeriggio torna Excel come appuntamento settimanale e ci dedichiamo agli orari di lavoro ai turmi di lavoro vedo le varie domande mi fanno piacere ho visto cosa mi chiede il nostro utente giù lui va bene apprezzo l'entusiasmo per cui vedrò di accontentare quando ci colleghiamo in chat sappiate che la diretta comincia alle 20 ma io mi collego in chat quasi un'ora prima un po' meno di un'ora prima e in quel momento lo sfruttiamo per fare eventuali domande per cui abituatevi che se avete qualcosa da chiedere volentieri lo facciamo prima in chat per iscritto ma poi magari nel video dico qualcosa subito dopo se devo spiegarmi meglio a parole per cui approfittate per chi vuole chiedere qualcosa di arrivare un po' prima mi risulta più facile farlo prima che durante o dopo al momento ci organizziamo così allora velocemente la descrizione di quello che c'è nel nostro sito amici di Maggiolina il video del giorno quindi quello che è uscito in giornata un link rapido agli ultimi video questo è diverso da questi video qui questo porta da un'altra parte mostra gli ultimi sette video pubblicati sette, otto, nove generalmente cerco di lasciarne solo sette ma a volte mi dimentico ne restano lì qualcuno in più quindi questo è diverso da questa cosa qui per cui si può usare per vedere gli ultimi video pubblicati voglio ringraziare Sergio grazie infinite Sergio per la super chat importantissima per noi non mi stanco mai di dirlo perché ci serve veramente il vostro sostegno per cui grazie poi volevo dire volevo dire questo grazie Marco che dici che il sito è bello ed è utile sì ritengo che sia utile effettivamente era un'esigenza che c'era e che continuavate a chiedermi abbiamo pensato di fare questa cosa poi sotto al link rapido gli ultimi video mettiamo gli ultimi video pubblicati nei giorni quindi questo era quello di ieri l'altro ieri ieri l'altro eccetera così perché magari c'è quella persona che ama guardare i video quotidianamente ne ho saltato uno ne ho saltati due faccio fatica a ritrovarli eccoli qua sono tutti qua con una breve descrizione questo invece è il link rapido a tutti ma proprio tutti gli oltre mille video che abbiamo pubblicato per cui da qui si raggiungono tutti in ordine cronologico inverso cioè dal più fresco da quello di oggi fino a quello di qualche anno fa facendo scorrere le varie pagine perché in una pagina sola del nostro schermo del computer non ci stanno ormai quindi sono in varie pagine vabbè poi qui ci sono i corsi in dettaglio dove ci sono i video i corsi spiegati cioè c'è scritto un po' di cosa di cosa si tratta in maniera più estesa ora non è che dirò tutti i singoli pulsanti poi qui ci sono tutti i nostri tutti i nostri corsi le nostre foto le archiviazioni delle dirette quindi le registrazioni delle dirette questa diretta andrà a finire in un archivio da qui è possibile vederle tutte quante il link comodo per raggiungere la diretta le dirette quella del giovedì e quella del martedì al contrario quella del martedì alle 20 e quella del giovedì alle 16 e quindi questo link funziona per entrambe dal sito Maggiolina si può premere e raggiungere direttamente il link poi vabbè ci sono anche altre cose l'app associazione Maggiolina che si può scaricare da qui funziona per gli smartphone Android per cui approfittatene devo dire che è carina dovremo arrivare a pubblicarla anche sul Play Store e ci arriveremo un passetto alla volta e riusciremo a fare anche quello ma a me capita di usarla la trovo che sia utile e magari la miglioreremo un po' prima di pubblicarla e un sacco di altre cose anche se queste sono le cose principali ora la mappa degli amici perdonatemi non l'ho detto ma è bellissima non la mostro per una questione di privacy ma ci sono amici che hanno sentito l'esigenza di posizionarsi sulla mappa mondiale diciamo siamo principalmente tutti in Italia ma non tutti quindi sulla mappa mondiale quindi possiamo vedere dove siamo con un nickname Marco abita qui Augusto abita da un'altra parte o con un soprannome semplicemente ed è bello vedere la mappa che un po' alla volta si riempie e vedere dove siamo ok vediamo adesso la chat mi è scappata un po' mentre parlavo per cui sono passate un sacco di cose e voglio dire questo qui ci si accede dopo averci sostenuto dopo aver compilato il modulo di richiesta tessera questa è una cosa importante lo trovate qui allora in una pagina internet vado su www.associazionemaggiolina.it amici associazionemaggiolina.it amici ma ci si arriva anche da associazionemaggiolina.it e basta ma andiamo su amici si arriva in questa pagina in questa pagina ci sono le istruzioni per sostenerci come nel modo in cui preferite la super chat come vedete questa sera è una di queste l'intraora permette di accedere al sito quindi uno che è arrivato qui può accedere al sito intanto ringrazio Icaro grazie infinite Icaro per l'uso della super chat per il tuo sostegno che non manca mai però se è la prima volta che io sostengo grazie Ennio grazie infinite anche a te per il sostegno grazie infinite dicevo se è la prima volta che avete sostenuto la maggiolina poi fatevi sentire mandate un'email dateci la possibilità di contattarvi perché tante volte ho difficoltà a ringraziare qualcuno perché magari ha provveduto a sostenerci lo vediamo e chiaramente ci fa molto piacere ma non ho un recapito dove puoi mandare almeno due righe di ringraziamento e qui c'è dopo aver effettuato la donazione è necessario fornire i dati enegrafici compilando il modulo di richiesta tessera questo è un modo per avere il recapito e soprattutto compilando il modulo di richiesta tessera poi viene abilitata l'area amici di maggiolina e il sito che abbiamo visto in questa posizione qui sotto ci sono anche delle istruzioni ah ecco se vuoi farti un'idea di cosa troverai nel sito c'è gli amici di maggiolina lo copro io in questo momento è qua sotto ma è un po' quello che vi ho già mostrato io bene torno sul sito mi piace averlo in sfondo perché anche a me piace devo dire come tutto grafica è fatto con google site quindi i siti di google e devo dire che è molto pratico da fare vediamo cosa si dice in chat prima di partire questa sera allora qualcuno mi dice mario come faccio per usare la super chat allora noi usiamo già la chat quindi c'è la riga dove scriviamo sotto la riga dove scriviamo c'è una faccina e dove con cui si possono mettere le faccine sorridenti eccetera ma a fianco alla faccina nel mio caso c'è ancora il simbolo di un dollaro qualcuno mi diceva già giovedì scorso ha un simbolo con una freccia che va verso l'alto o verso il basso non ho capito bene questa cosa perché io ancora non lo vedo comunque è quello da premere e lì poi si viene guidati all'inserimento dei dati di una carta di credito che raccomando ricaricabile qui su youtube siamo blindati siamo sicuri del pagamento ma in ogni caso sicuro o no il mio consiglio è sempre quello carta di credito ricaricabile così siamo più tranquilli tutti quanti solo la prima volta le volte successive basterà inserire solo l'importo desiderato e poi sarà più facile fare la super chat e ormai ci sono persone che la usano da tanto tempo ed è sempre stato andato tutto bene quindi è proprio super sicuro bene vediamo cos'altro si dice in chat beh grazie dei complimenti e tutto quanto e quest'anno ci vedremo a Natale anche quest'anno ci vedremo a Natale il 21 dicembre a Milano non ho ancora non ho ancora i posti ho già il posto sappiamo ci vediamo dove ci siamo visti l'anno scorso per chi è venuto alle 16 ma devo ancora fare la pagina del sito con tutto quanto con tutte le informazioni era ancora un po' presto volevo aspettare almeno dicembre per poterlo per poterlo dire quindi la settimana prossima ci siamo ah bello vedo che vi state dicendo io il dollaro vediamo se c'è qualcuno che dice ho la freccina per renderci conto se ci sono degli aggiornamenti in corso stanno cambiando un po' le cose prima quando ero in chat per chi c'era dall'inizio mi ha visto provare a mandare dei punti di domanda penso che si siano visti io li vedevo quelle sono emoji cioè le faccine che noi vediamo sono emoji cioè servono a esprimere una emozione e quindi il punto di domanda può essere o una domanda da fare qualcosa del genere alcune emoji le disegniamo noi quella lì l'abbiamo disegnata noi lo mostrerò in un video ancora non si è visto questo video ma lo vedremo lo vedremo presto e quindi ne disegneremo altre ci saranno emoji a disposizione per noi insomma quindi fatte su misura per noi e fatte da noi ok ragazzi allora come avete visto in copertina del video questa sera parliamo dei tasti funzione abbiamo già parlato varie volte dei tasti funzione che cosa sono eccetera e quindi questa sera vogliamo vedere cosa fa ogni singolo tasto funzione i tasti funzione per capirci sono quelli con F1 F2 F3 allora vado a cercarli tastiera su schermo vediamo se c'è tasti funzione riesco a farli saltare fuori adesso in opzioni passa da un altro tasto no non mi ricordo come si fanno a far saltare fuori qui quindi da qui non ci riesco e c'era un modo per vederli ed era qua opzioni inserisci pagina su pagina giù dissolvenza no perché la fa sbiadita punto di domanda neanche perché è un'altra cosa ancora era in opzioni probabilmente ma non mi ricordo come si fanno a tirare fuori nav eccoli qua neanche neanche vabbè come non detto come non detto ve li mostro qua dai così lo sappiamo allora tasto destro personalizza l'immagine scegliamo anziché lo sfondo standard una immagine la nostra classica tastiera eccola qua quella che mi avete visto usare negli altri video questi da f1 a f12 sono i tasti funzione grazie infinite Aldo per l'uso del super sticker che è la novità di questo di questo periodo quindi la super chat ma con un adesivo animato con una gif animata ne hai scelta una bella grazie grazie Mario per l'uso del super chat grazie infinite anche a te quindi questi tasti sono programmabili nel nostro computer nella tastiera del nostro computer tutti quanti abbiamo questi tasti non hanno sempre la stessa funzione la stessa funzionalità perché il programmatore che realizza il programma che stiamo utilizzando gli può assegnare una comando oppure no ricordo chi ha il computer portatile che per attivare il tasto funzione quindi uno di questi tasti qui potrebbe avere bisogno di tenere premuto in abbinamento il tasto FN chi ha il portatile ha sicuramente anche un tasto FN il tasto function appunto che serve per tenendo premuto quel tasto abbinarsi poi ai tasti funzione qualche computer ha bisogno di tenere premuto FN per fare F1 F2 F3 qualche computer invece no dipende dalla marca del computer vediamo cosa dice Cristian per far apparire i tasti funzione premi FN su tastiera a schermo ah vediamo ero curioso di questa cosa qui però bisogna vedere tastiera su schermo infatti mi guardavo attorno ah eccolo qui FN ed ecco i tasti funzione per cui fa proprio questa cosa per cui vado a togliere l'altra tastiera perché mi dà fastidio allora rimpiccioliamo questa grazie Cristian allora personalizza in sfondo vogliamo la presentazione così torniamo allo sfondo standard eccolo e questa è la nostra tastiera su schermo quindi alcuni computer portatili intanto ringrazio Ken per l'uso della Super Chat grazie infinite importantissima per noi grazie mille vediamo cosa qualcuno dice OHP ok dipende dipende dalla marca anche nel mio caso i fissi hanno la tastiera estesa e quindi il tasto F1 F2 F3 si preme da solo i portatili che risparmiano spazio quindi hanno una tastiera più compressa possono hanno il tasto FN e il tasto FN può attivare i tasti funzione oppure no dipende dalla marca del computer quindi FN i tasti da F1 F12 oppure no va tenuto premuto per farlo grazie Antonio grazie infinite per l'uso della Super Chat grazie mille ragazzi è un sostegno indispensabile per noi grazie ok vediamo allora cosa fanno questi tasti funzione chiudo io ho un elenco di tre pagine di cose perché li uso pochissimo anch'io ne so due tre di quei tasti funzione a memoria che mi capita di usarli spesso ma ho scoperto che uno di quelli neanche lo usavo a pieno cioè aveva più funzioni di quelle che io mi immaginavo allora premesso che questi tasti funzione non hanno sempre la stessa funzionalità perché vengono programmati di volta in volta andremo a provarli un po' dappertutto allora ora noi siamo in Windows quindi siamo nel sistema operativo cosa vuol dire vuol dire che il programmatore di Windows in realtà sono in tanti quindi comunque qualcuno delle persone che hanno programmato Windows hanno deciso la funzionalità dei vari tasti quindi cosa farà F1 F1 era uno dei tasti che mi ricordavo generalmente dà una guida dà un aiuto quindi fa uscire un menu di aiuto la guida del computer sapete che mi dite sempre quando vi vedo ai corsi non voi ma le persone che vedo i corsi caspita ma nel computer non c'è un manuale delle istruzioni che uno si può mettere a leggere è vero non ve lo danno più in mano ma in realtà c'è e c'è ed è talmente vasto che le persone non lo leggono più perché c'è talmente troppe cose da leggere però c'è e viene richiamato dal tasto F1 quindi sono su Windows Windows 10 perché potrebbe cambiare anche dalla versione di Windows e vado a premere F1 stavo guardando la chat e cercando di capire com'è è simpatica la cosa allora premo F1 ed è uscita la finestra voi non la vedete perché mi è uscita nell'altro schermo ed è questa praticamente mi ha aperto no però aspetta vediamo perché dobbiamo ragionarci bene su questo discorso io ero in Windows ma in realtà devo essere ecco ho cliccato sullo sfondo di Windows provo a premere F1 ok ora ho attivato la funzionalità di Windows chiudo così mi spiego meglio allora io nel mio computer in questo momento ho aperti vari programmi Windows che stiamo vedendo qui OBS che ho qui sotto è quello che trasmette la diretta Google Chrome che ho qui è quello che mi mostra la chat che mostra il sito Amici di Maggiolina quando ci vado sopra ho aperta la tastiera quindi ho tre cose aperte il tasto F1 può fare cose diverse o la stessa cosa ma in ambiti diversi per cui quando io premo F1 devo essere focalizzato devo avere detto al computer quale programma sto utilizzando in modo che lui applichi l'F1 alla cosa che io sto utilizzando intanto ringrazio Francesco grazie Francesco per l'uso della super chat grazie infinite bene e qui ci siamo allora F1 stavo guardando per cercando di dare un'occhiata alla chat in modo da rispondere alle domande pertinenti sui miei tasti funzione c'è un'icona in più con degli altoparlanti alcuni ecco è un computer portatile probabilmente quindi sui tasti F1 dei portatili abbiamo un doppio comando F1 e il simbolo che c'è disegnato sopra quindi dipende dai computer alcuni computer per fare F1 hanno bisogno di tenere premuto in contemporanea FN F1 se invece premo il tasto F1 senza FN fanno il comando del simbolo che c'è disegnato sopra simbolo che cambia da un computer all'altro quindi anche lì bisogna guardare che cos'è altri computer invece fanno all'inverso bisogna premendo il tasto normale fa F1 e tenendo premuto FN fa il simbolo di solito ce ne accorgiamo perché FN spesso è colorato su F1 su F2 sui tasti funzione c'è un colore uguale a quello di FN il simbolo colorato come FN ha bisogno di essere abbinato alla pressione di FN per fare il comando e quindi ci siamo allora torniamo a premere F1 clicco su Windows per essere certo l'ho già fatto di aver focalizzato l'attenzione del computer sul sistema operativo Windows premo F1 aspettandomi una guida delle istruzioni premo ecco qua la guida e le istruzioni non sono dentro al mio computer ormai cambiano talmente spesso queste istruzioni che non conviene che le mettano nel mio computer in Windows conviene che me le facciano leggere da internet F1 premuto sul sistema operativo Windows fa aprire il browser Edge perché è quello di Windows quindi Windows ha Edge e una pagina dove mi viene scritto come ottenere assistenza in Windows 10 e qui mi danno delle informazioni che io devo cominciare a leggere ringrazio Enzo per l'uso del super sticker grazie infinite Enzo grazie per noi è di vitale importanza ok e qui ci siamo vedo Veronica che dice io ho una tastiera Logitech quella con USB per il PC fisso ok questo mi fa ricollegare al discorso se io volessi una tastiera più estesa per il mio computer portatile basta che la compro la attacco con l'USB e il mio computer fa funzionare la tastiera estesa quindi sono più veloci a scrivere ho i tasti tutti estesi e gestire le cose per cui ci può stare ok il tasto ESC lo diciamo nelle primissime lezioni serve per uscire quando c'è qualche situazione tipo che so questo ho il menu ho premuto è saltata fuori quella roba lì adesso cosa devo fare ESC e lui se ne va e quindi sono come si dice sono facilitato da questa cosa ok allora chiudo con la X questo era dal sistema operativo ma se apro un altro programma andiamo allora vado ad aprire Word Microsoft Word poi lo lascio aperto prendo un documento vuoto Microsoft Word è un programma prodotto dalla Microsoft Microsoft Windows Microsoft Word stessa azienda che produce il software mi aspetto che il tasto F1 faccia più o meno la stessa cosa visto che è un programma della stessa famiglia premo F1 e ottengo anche in questo caso la guida quindi F1 fa uscire la guida generalmente nei prodotti Microsoft proviamo ancora ma in generalmente tutti i programmi diciamola diciamola bene nei prodotti Microsoft finora quelli che abbiamo provato non stupitevi se su un altro programma fa qualcosa d'altro perché può essere così il programmatore può decidere di assegnargli qualcosa d'altro ma in generale cercano di tenere una uniformità di comando perché così le persone sanno che F1 fa uscire la guida se su quel programma c'è la guida la faccio uscire con F1 perché è più intelligente e le persone sono già abituate ad usare quello sono andato nel campo di ricerca di Windows ora parlo un po' più piano ragazzi e vado a scrivere Paint Paint per aprire il programma di disegno che c'è nel nostro Windows anche questo fa parte di Windows quindi Microsoft F1 anche in questo caso fa uscire la guida diversa assistenza per Paint quindi una pagina diversa ok vabbè poteva essere diverso ma sempre guida andiamo fuori Microsoft apriamo un altro programma che ci servirà dopo LibreOffice eccolo qua video scrittura ma con LibreOffice software diverso tasto F1 in questo caso lancia la guida mi dice guarda che la guida incorporata di LibreOffice non è installata nel tuo computer leggi la guida online non è installata nel computer vai su internet a leggere la guida ok non voglio farlo ma è così in alcuni programmi non sono riuscito a mostrarlo c'è un punto di domanda una volta c'era un punto di domanda era molto di moda un punto di domanda quello lanciava sempre la guida ok allora vado vado a vedere un altro programma ancora Acrobat Reader intanto ringrazio Giorgio per il complimento grazie Giorgio fa sempre piacere allora Acrobat Acrobat Reader sto aprendo a tutti i programmi che ci serviranno dopo per provare gli altri tasti quello che legge i pdf vediamo se prendiamo un pdf dove non ci sia scritto fatture o niente o niente di che associazione maggiolina corso powerpoint questo sono sicuro impossibile aprire il file ecco abbiamo già sbagliato vabbè questo favole vediamo se me lo apre sì ok questo è un pdf che contiene testi di favole voglio premere f1 per vedere cosa succede ah intanto c'è il punto di domanda eccolo qua il punto di domanda questo punto di domanda supporto online f1 per cui da sempre nei vari programmi c'è il punto di domanda che serve a fare la guida e lì vicino c'è scritto f1 quindi se io premo f1 allora sul mio computer mi ha aperto la guida in questo caso me l'ha aperta nell'altra schermata però informazioni di supporto per adobe acrobat reader ok quindi f1 ha fatto questo ormai tutti si affidano alla guida online è più facile per loro farla lassù che non farla sul nostro singolo computer tutte le volte perché è più complicato ho perso la chat vado a riprenderla eccola qui grazie infinito e augusto per il super sticker anche Enzo mi pare di averti già ringraziato Enzo però per non sbagliare grazie Enzo per il super sticker importantissimi per noi grazie mille ok vedo che la chat sta andando bene e ci siamo ora direi che abbiamo visto il tasto F1 fa la guida un po' dappertutto il tasto F2 cosa fa? allora il tasto F2 a volte si usa in modalità di caricamento cioè quando sto accendendo il computer premo F2 su alcuni computer serve per entrare nel BIOS per poter fare delle modifiche per lanciare la recovery o cose di questo genere ma dipende dalle marche del computer e quindi non è detto che sia così in Windows fa il comando rinomina quindi in Windows fa il comando rinomina questa era una delle cose che io ignoravo totalmente o perlomeno che non ricordavo più sto rimpicciolendo tutto quanto voglio tornare su Windows questa volta però per Windows per fare il comando rinomina cioè per cambiare il nome a qualcosa e mi metto qui dove c'è salvataggio faccio un click in modo che salvataggio sia stato selezionato sia stato focalizzato il mio computer ora sa che io sono interessato a salvataggio se premo F2 questo F2 agirà su quel pulsante lì su quell'icona lì sul nome salvataggio premo F2 ed eccomi entrato in modalità rinomina ora il nome è blu e io potrei scriverci sopra qualcosa di diverso non voglio per non fare confusione nel mio computer perché sono abituato a vedere quel pulsante con il nome salvataggio però F2 rinomina le cose in Windows negli altri programmi bisognerà provare non ho notizie non è detto che faccia qualcosa proviamo se io vado in Word e premo F2 al momento non fa niente potrebbe essere che non fa niente è un programma e invece vado su esplora file e scelgo un altro file quindi vado qui da cancellare dove ho file che posso pasticciare questo lo seleziono F2 ecco che ho il rinomina posso cambiare il nome al file posso scriverci maggiolina corso base questo posso anche modificarlo premo invio ed ecco che da qui è andato via perché gli ho cambiato il nome è andato in ordine alfabetico e lo ritrovo qua in maggiolina corso base dopo la I M e prima della P l'ordine alfabetico in questo caso alla M non c'è nient'altro e quindi è arrivato lì dietro di me no si vede ok va bene tasto F3 allora il tasto F3 è associato alla funzione di ricerca interessante quindi in Windows ma in generale nel computer questo tasto fa la funzione di ricerca cosa vuol dire vediamo io sono in Windows in una finestra di Windows anzi vado va bene in questa finestra di Windows qui va bene andrebbe bene qualsiasi altra ma va bene devo cercare un qualcosa non lo non lo trovo ecco mi fa piacere il messaggio in chat di Marco in questo momento che dice anche nel Mac quindi anche nel sistema operativo Apple F3 fa la funzione di ricerca lo provo quindi premo F3 qui è uscito qualcosa strumenti di ricerca ma soprattutto senza che io abbia premuto niente quindi uso la freccia solo per indicarvelo ha attivato qui il cursore cioè io posso andare a scrivere vediamo se scrive quindi se io scrivo maggiolina e premo invio anzi senza neanche premere invio non ho fatto in tempo il mio computer sta cercando tutti i file che contengono la parola maggiolina dentro la cartella da cancellare cioè dentro il luogo in cui ero al momento e non credevo che ce ne fossero così tanti quindi vuol dire che c'è qualcosa che devo cancellare in quella cartella mi fa venire in mente che ci sono cose che devo cancellare vediamo cosa si dice in chat allora il tuo nome perdonami 100 dice posso cambiare rinomina anche con il tasto destro del mouse assolutamente sì anche gli stessi comandi che noi facciamo con i tasti funzione si possono fare anche in tanti altri modi tant'è che io neanche li usavo questi tasti funzione quindi facevo lo stesso queste funzionalità ma in altro modo nel computer c'è sempre più di un modo per fare la stessa cosa c'è sempre più di una strada per arrivare nello stesso luogo e si può utilizzare quella che si vuole in funzione della propria comodità o del fatto che mi ricordo questa piuttosto di un'altra va bene questo lo chiudo questa ricerca qui va bene ho capito mi ha trovato un sacco di cose non pensavo perché sono dentro qua salvataggi per disco G questi li devo cancellare sono tutte cose che devo cancellare le cancello subito tasto destro elimina e loro se ne vanno nel cestino e mi sta dicendo guarda che la cartella è troppo grande per il cestino eliminare definitivamente questa cartella sì perché li ho messi qui proprio perché sapevo che erano da cancellare dopo qualche tempo sì e ora se ne va così ho fatto un po' di pulizia era una dimenticanza che avevo avuto bene vediamo cos'altro si dice quindi F3 sì ma non l'abbiamo provato dappertutto voglio andare sul sito amici di Maggiolina quindi sito amici di Maggiolina browser internet Google Chrome quindi non più in Windows non più un prodotto Microsoft ma nel browser Google Chrome premo F3 e qui è uscito la casella di ricerca c'è scritto Excel perché io avevo già scritto dentro prima Excel quindi mettiamo che io ho cancellato tutto e vado fuori ho premuto ESC per uscire per il nostro amico prima che chiedeva del tasto ESC premo F3 si apre la casella di ricerca scrivo Excel lui mi cerca all'interno della pagina internet che sto vedendo tutte le corrispondenze quindi tutte le parole che hanno a che fare con Excel cioè tutte le volte in cui ho ripetuto Excel all'interno della pagina sono tre sto vedendo la prima di tre qui in realtà ne vedo due al momento questo arancio è la prima questa sarà la seconda la terza è più sotto nella pagina potrei andarci premendo questi pulsanti qui indietro avanti per andare su e giù tra le tre ricorrenze Excel ma potrei continuare a usare F3 per passare alla ricorrenza successiva quindi premo di nuovo F3 ecco che l'Excel è diventato giallo il primo è diventato arancione il secondo premo di nuovo F3 passo alla ricorrenza successiva ed eccomi arrivato più giù nella pagina dove c'è scritto nuovamente Excel e qui mi viene riportato 3 di 3 6 alla terza ricorrenza questa è l'ultima se premi ancora F3 torni da capo quindi questo tasto fa sempre questa cosa allora Simone dice a me F3 alza il volume prova allora prova Simone a premerlo in concomitanza con FN cioè tieni premuto FN e dai un colpetto su F3 o viceversa a seconda di quello che facevi quindi se prima lo premevi da solo ora premilo insieme a FN se invece prima lo premevi insieme a FN ora premilo da solo vediamo se fa F3 perché deve fare così e quindi in Google Chrome deve fare così facci sapere in chat cortesemente ok se vado in Word abbiamo detto che proviamo un po' andiamo sì in Word questa volta ho bisogno di un testo per cui apro qualcosa file apro antibiotico un testo particolare ok voglio scrivere allora F3 F3 non vedo apparire niente quindi clicco F3 no in questo caso non mi fa il cerca perché io non non lo vedo funzionare quindi non c'è vediamo cosa dite voi Francesco se faccio FN più F3 mi spegne il PC non dovrebbe perché non dovrebbe però non lo so Francesco non vedendo il tuo computer non lo so Marco62 dice come nel Mac mi piace questa cosa dice scusate se faccio i confronti ma non è importante questa volta me lo aspettavo Marco perché il browser Google Chrome non è legato al sistema operativo quindi Google Chrome funziona su PC funziona su quindi funziona su Windows funziona su Mac sono due programmi diversi perché sono programmati per due sistemi operativi diversi però è plausibile che il programmatore che l'ha realizzato abbia mantenuto una continuità di funzionamento sui due sistemi operativi perché Google Chrome è sempre quello quindi va usato sempre nella stessa maniera Alberto per iscriversi si può usare la Postepay sì per iscriversi basta cliccare su iscriviti e siete iscritti al canale che per noi è una buona cosa per dare come dire il sostegno e poi passare a registrarsi in associazione maggiolina la Postepay va benissimo quindi grazie vediamo Francesco quando lo riaccendo si accende più veloce allora quello è un addormentarsi guarda che sullo stesso tasto non ci sia premuto non ci sia il simbolo di una luna perché allora va in stand by il computer e sempre il discorso Fn non Fn per cui con Fn premuto fa una cosa senza Fn premuto fa un'altra cosa dovete imparare sul vostro computer quando viene usato il tasto funzione e quando viene usato l'altro funzionamento allora Simone hai ragione con Fn più F3 esce anche a me la barra di ricerca perfetto per cui Simone il tuo computer per avere i comandi Fn ha bisogno di tenere contemporaneamente il tasto per usare i comandi funzione F1 F2 F3 eccetera ha bisogno di tenere contemporaneamente premuto il pulsante Fn magari con F1 funzionava lo stesso perché non c'era una doppia funzionalità ma abituati che i tasti funzioni per te vanno con Fn inserito vediamo anche a me fa spegnere il computer Mossa dice probabilmente avete lo stesso computer purtroppo senza vedere la tastiera non riesco ad aiutarvi però o in un modo spegne il computer cioè con Fn o senza Fn spegne il computer nel modo contrario se c'è Windows dovrebbe fare deve fare la stessa cosa che fa da noi in sostanza infatti Francesco dice si c'è la Luna ecco nel caso tuo vuol dire che premuto o da solo o con Fn fa la Luna premilo nel modo inverso quindi se prima usavi Fn ora non usarlo più se prima non usavi Fn ora usalo fai nella maniera diversa rispetto a prima vedrai che non fa più la Luna ma fa la ricerca in Word non fa la ricerca voglio vedere in LibreOffice tanto per fare una prova anche qui ho bisogno di aprire un file vado su file apri vediamo se c'è vabbè qua non so tanto vabbè la lezione di salvataggio questa qui F3 abbiamo detto testo automatico per la scelta rapida lezione non trovato vabbè ha fatto qualcosa però non so non so cosa non è una ricerca quindi è stato programmato per fare qualcosa d'altro ecco che anche Francesco dice con F3 si apre la ricerca perché perfetto per cui i tuoi tasti funzionano Francesco funzionano senza Fn in abbinamento sono invertiti rispetto ad altri computer ma non è neanche giusto dire invertiti rispetto ad altri perché alcuni lavorano in un modo alcuni lavorano nell'altro anche all'interno della stessa marca grazie Giovanna per l'uso della Super Chat grazie infinite arriviamo a un tasto interessante F4 allora il tasto F4 io lo usavo però non lo sapevo usare tutto allora qui mi dice la cosa in alcuni computer in alcuni programmi serve per far vedere a tutto schermo in questo caso io ho provato direi di no qui F4 non si vede a tutto schermo ho già provato anche su altri programmi e non è così ma perlomeno non su quelli che ho provato io quindi in alcuni programmi però non so quali possa vedere a tutto schermo anche perché per la visione a tutto schermo ormai c'è un altro tasto un altro FN usato più di frequente quindi il tasto F4 generalmente è usato in combinazione con il tasto Alt Alt F4 chiude le finestre in Windows perlomeno per cui allora andiamo su una finestra che posso chiudere senza doverla riaprire dopo questa Esplora File questa è una finestra se tengo premuto Alt e do un colpetto su F4 attenzione tengo premuto Alt un colpetto secco su F4 perché se tengo premuto a lungo il tasto va in ripetizione e mi chiude tutte le altre finestre fino a spegnermi il computer quindi Alt Tac colpetto su F4 le persone che devono premere FN per i tasti funzione devono tenere premuto Alt FN F4 per poter ottenere il risultato perché F4 su alcuni computer funziona solo in abbinamento con FN poi è richiesto anche il tasto Alt quindi tre tasti Alt FN colpetto su F4 ora lo faccio Alt F4 chiude la finestra quindi Alt F4 chiude una finestra e questa la vado a chiudere a mano questa ricerca perché non mi interessa e generalmente funziona così dappertutto cioè in Windows Apple no mi sembra che sia mail a Q confermaci Marco se nel tuo computer funziona così Simone dice anche con FN ci vuole anche con F1 ci vuole FN sì tutta la riga o funziona con FN o funziona senza FN quindi dovete regolarvi e saperlo sul vostro computer ringrazio Sante ciao Sante grazie infinite per l'uso della Super Chat che per noi è di vitale importanza va bene cos'altro si dice in chat in modo da bravi che fate domande che fate commenti inerenti all'argomento probabilmente interessa di più e ci aiuta a fare una cosa più più valida più completa caspita vedo che è già tardi comunque abbiamo un sacco di tasti ma li vedremo anche le prossime volte eventualmente allora Oscar il tasto F3 si può programmare diversamente dalla ricerca allora sì e no cioè sì il tasto è programmabile mi diceva Christian mi sembra una modalità di programmare i tasti ma non ho approfondito avevo in mente di farlo per poi mostrarlo ma non ho approfondito quindi lo vedremo in seguito generalmente la programmazione viene fatta dal programmatore quando crea il programma decide che quel tasto fa quella cosa e mi pareva che con Christian si fosse trovato qualcosa di programmabile a livello di sistema operativo per gestire questi tasti mi riprometto di studiarlo meglio studiare meglio questa cosa e di darvi una risposta in seguito in uno dei prossimi video dove parleremo ancora di questa cosa allora Gianni a me F4 senza FN mi fa scegliere il tipo di schermo da visualizzare cioè solo schermo PC oppure doppio schermo perché in quel caso tu hai un computer portatile e quel pulsante lì sul tuo computer portatile senza FN non è F4 è quel pulsante lì che dà quel comando e quindi per te funziona così perché sui computer portatili i tasti funzione hanno la funzionalità F F1 F2 F3 F4 o la funzionalità che c'è disegnata lì sotto tu avrai un quadrato con due barrette insomma due quadrati per farti capire che passi da uno schermo all'altro secondo me poi dipende dall'età del computer ringrazio Gilberto ciao Gilberto e grazie per la super chat allora vediamo cos'altro si dice allora Marco dice si confermo quindi mela Q per chiudere l'alt F4 di Windows Isaia si F11 ci arriveremo in fondo è il penultimo quindi ci arriveremo 3x4 lezioni no scherzo ovviamente questa sera non credo che ce la faremo ma arriveremo a vederlo magari la settimana prossima Ennio dice F4 blocca la cella col simbolo dollaro interessante devo provarla questa cosa qui per Excel immagino interessante guarda la vado a provare subito perché mi interessa grazie Maria grazie per l'uso della super chat grazie infinite allora se io sono qui beh se premo F4 così no spremuto così mi è andato su mi è andato su F1 sul numero 1 cosa che non sapevo se faremo in una formula uguale F4 a no a me non lo fa ma evidentemente non ho capito bene come funziona anche qui se vorrai scrivermi qualcosa grazie se no me lo studierò perché mi interessa questa cosa la andremo a vedere allora vediamo allora ctrl F apre la ricerca anche Cristoforo grazie infatti ci sono più modi di fare le altre cose e di fare la stessa cosa e io infatti avevo in mente questa cosa qui che sapevo Isaia dice sì su Excel e poi lo studierò questa cosa di Excel perché non la sapevo perlomeno non l'ho mai usata allora torniamo a F4 tutti sappiamo perlomeno io sapevo alt F4 chiude in realtà ctrl F4 chiude un'istanza del programma per capirci ora io sono in Google Chrome è un programma in questo programma ci sono due schede aperte il sito amici di Maggiolina e il sito benvenuti amici cioè sono due pagine ctrl F4 chiude la pagina attiva quindi sono in ctrl premo F4 ha chiuso la scheda aperta chiude un'istanza del programma cioè se quel programma è aperto in più finestre in più file chiude una di quelle finestre senza chiudere tutto il programma interessante questa cosa che non che non sapevo allora Marco sì Daniele F4 lo avevi già spiegato al corso Excel per tornare sulla cella sulla cella ok grazie grazie Marco non mi ricordo niente più queste cose allora quando devi fissare una cella però attenzione il quando devo fissare una cella ragazzi allora questa cosa di Excel mi interessa attenzione il dollaro è sul numero 4 non sul tasto F4 quindi non so se io adesso sto capendo male o se voi vi state confondendo cioè sopra al numero 4 c'è il dollaro per cui se uso il dollaro che c'è sopra al numero 4 utilizzo il come si chiama il valore assoluto per bloccare una cella però non so se è il discorso che state dicendo voi F4 è un altro tasto e non so se blocchi il valore assoluto quindi spiegatemi bene se è così oppure oppure no vediamo Giuseppe F4 in Excel è il tasto assoluto F2 più F2 più F4 vediamo perché mi interessa questa cosa qui è di Excel visto che faccio i corsi di Excel mi interessa questa non la sapevo allora F2 F4 ah beh ok in questo caso no devo devo vedere come funziona allora vorrei bloccare la cella anche io non riesco a usarlo ragazzi quindi scrivetemi meglio come usarlo proprio parola per parola allora vediamo cos'altro dice Francesco c'è un problema se ho la tastiera dove i tasti funzionano anche senza FN no non c'è nessun problema l'importante è che tu sappia come gestirti Excel lo teniamo aperto per dopo Milo io direi che in questo contesto vi trovate tasto destro mouse troverete tante opzioni ovviamente il tasto destro del mouse fa tante cose ne abbiamo già parlato stiamo semplicemente chiedendoci ma questi tasti cosa fanno non si usano mai però in realtà sono utili ad esempio CTRL F4 può essere interessante io che insegno che giro in piedi attorno ai tavoli quando devo fare qualcosa sul computer di una persona seduta non gli dico alzati spostati fammi sedere e neanche gli passo davanti con la mano per prendere il mouse per cui se devo chiudere una cosa ALT F4 mi risulta molto comodo sono poco invadente lo chiudo da stare in piedi senza aver bisogno di muovere la freccia del mouse guardarlo eccetera e questo CTRL F4 che chiude un'istanza per me è un qualcosa è un qualcosa in più grazie Donato per l'uso della super chat grazie infinite allora andiamo avanti con la chat Oscar il tasto F4 fa ricaricare la pagina o altre funzioni no ah il tasto F5 sì adesso ci arriviamo Isaia dollaro a dollaro 1 questa cosa qui la so ma io il dollaro lo scrivo a mano di solito non lo scrivo col tasto F4 e quindi devi dirmi il contesto sono veramente curioso di questa cosa qui se io qui ci scrivo 10 e qui ci scrivo 2 e qui scrivo uguale dollaro a dollaro 1 lo so che fa questa cosa ma non è sul tasto F4 quindi dovete dirmi come devo usare il tasto F4 per usare questa cosa se io scrivo A1 ci metto F4 dopo sì adesso ho capito in questo caso perfetto adesso ho capito grazie grandissima questa cosa per me io non lo sapevo è veramente molto comoda quindi scrivo la mia formula scrivo A1 ah però A1 serve valore assoluto allora F4 invece di star lì a fare dollaro A dollaro 1 così è molto più comodo più B più A2 anche A2 è un valore assoluto F4 fissato perfetto premo invio grazie grazie ho imparato qualcosa lo dico sempre io che si impara qualcosa a tutti i corsi chiudo Excel senza salvare e ci siamo grazie ragazzi allora Gianni devi prima scrivere 1 poi premere F2 perfetto grazie grazie è molto interessante ragazzi lo dirò sicuramente in qualche video perché è veramente comodo allora vediamo cos'altro c'è allora vediamo Tiziano se dice qualcosa di inerente no fuori tema ragazzi non 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 ci siamo beh gli rispondo velocemente hanno cambiato quella cosa quella app si è modificata nel tempo effettivamente potrebbe A non esserci più B non esserci più per la tua marca e modello di telefono o scusate per il tuo sistema operativo per la tua versione di sistema operativo quindi è cambiata un po' le cose quindi è più probabile che non ci sia più che ci sia qualcosa di simile ma non quella di cui parlavamo tanto tempo fa ciao Milan ben arrivato tasto F5 che ore sono sì tasto F5 il tasto F5 è il tasto aggiorna serve a ricaricare un qualcosa utilizzatissimo in internet equivale a questo 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 tasto qui se io lo prema lo premo ricarica questa pagina lo premo vedrete che la pagina è scomparsa alcuni elementi si sono ricaricati perché attraverso internet è tornata per aggiornarne il contenuto si usa in tantissime situazioni questo F5 anche in Windows ok premo F5 di nuovo questa volta sulla tastiera e ha fatto l'aggiorna F5 aggiorna mi pareva di leggere qualcosa di interessante stesso funzionale anche in altri programmi ok niente ricarica la pagina F5 ricarica la pagina aggiorna e quindi ci siamo il tasto F6 allora o alcuni browser il tasto F6 ah ok questa cosa interessante il tasto F6 sposta il fuoco del mouse perché quando non lo scrivono devono descriverlo in qualche maniera allora capita spesso di dover andare a scrivere qui l'indirizzo devo andare lì per scrivere qualcosa andiamo in una pagina vuota andiamo in una pagina vuota no perché non c'è niente vabbè prendiamolo questo insomma devo andare a scrivere lì dentro quindi fisicamente devo prendere il mio mouse andare lì sopra fare clic e ora posso scrivere dentro se io invece sono fuori premo F6 e mi si evidenzia lì quindi il mio pulsante è lì e adesso posso scrivere e quindi ho spostato l'attenzione del computer in quella posizione e mi permette di scrivere lì grande cosa perché lì ci si va a scrivere spesso se non hai voglia di prendere il mouse e di spostarlo e fare clic o non ti ricordi o ti sbagli sempre quando fai clic perché c'è chi magari clicca due volte che fa una cosa diversa e non va bene F6 va a fare questa in Chrome in altri non lo so vediamo Firefox sto aprendo Firefox sull'altro schermo eccolo qui F6 anche su Firefox segue questa cosa chiudiamo Firefox apriamo Edge visto che è un browser vediamo se lavorano tutti alla stessa maniera Edge premo F6 anche quello funziona quindi all'interno dei browser fa questa cosa vediamo cos'altro si dice Oscar allora Oscar interessante questa domanda Oscar dice può ricaricare anche la pagina di Gmail sì ma sarebbe meglio non farlo allora chiapiamoci meglio vado su Firefox perché mi viene più comodo in questa modalità perché posso aprire una pagina diversa allora esco dall'account Daniele entro nell'account Rubino ecco sono venuto in avanti sono venuto in Firefox perché Google Chrome è impegnato a trasmettere la diretta e non potevo fare questo cambio di account allora io sono intanto ringrazio Anna grazie infinite Anna per l'uso della super chat grazie del sostegno dicevo io sono dentro al browser Firefox ingrandisco così vediamo solo quello e vado in Gmail posta elettronica eccomi qua adesso tra un attimo arrivo arriva F6 cosa sposta cos'è che abbiamo detto no sposta l'attenzione del mouse cioè clicca lì sopra tanto rischiaccio su Gmail perché qua si è addormentato il computer eccolo qua sono nella mia posta elettronica se io premo F6 va là sopra sposta l'attenzione del computer seleziona la barra dell'indirizzo per scrivere la ecco allora mi si diceva e se premo F5 ricarica la pagina sì premo F5 e ricarico la pagina però attenzione che se la password non è memorizzata eccetera deve rifare quel passaggio lì c'è un rinvio dei dati se io faccio F5 mentre sto consultando il sito della mia banca bonifici movimenti eccetera non va bene perché ricarica la pagina internet quindi la banca dovrebbe richiedere le autorizzazioni eccetera eccetera non va bene di solito questi siti nei quali vi si accede con autenticazione hanno un loro pulsante ricarica all'interno del sito non fuori sul browser quindi non questo ma questo questo ricarica questo aggiorna che non attivo con F5 devo venire qui e premerci sopra aggiorna la pagina in maniera corretta cioè guarda se ci sono nuove email senza uscire ricaricare il sito internet ed eventualmente dovermi riautenticare con tutte le varie modalità per cui nei siti nei quali sono entrato con una autenticazione non dovrei mai aggiornare la pagina con i pulsanti esterni del browser e nemmeno andare avanti indietro con le frecce avanti indietro perché questo crea problemi di sicurezza al sito di funzionamento del sito state facendo un pagamento state facendo un bonifico mai tornare indietro col tasto indietro ma troverete un tasto indietro se si è la possibilità di tornare indietro all'interno del sito o a nulla se non dovete più pagare ma a volte vi dite mi sono dimenticato di scrivere qualcosa nella causale del bonifico torno indietro ma non da là perché è rischioso cioè rischiate di fare dei pasticci all'interno del sito ci possono essere dei malfunzionamenti quindi si cerca e si torna indietro dall'interno del sito ok questa era una buona domanda vediamo Giuseppe sempre in Excel premendo più volte F2 e F4 più volte fissa il valore assoluto sia alla colonna e alla riga e premendola ancora fissa il valore assoluto alla riga o alla colonna grazie Giuseppe perché proverò sicuramente subito dopo la diretta a vedere queste cose perché mi interessano molto bene ci siamo quindi il tasto F6 lo abbiamo visto che ore sono un altro tasto probabilmente riusciamo a farlo ho il tasto F7 in un programma di elaborazione testi lancia il correttore ortografico non so se lo fa in tutti ma in generale si in generale lancia il correttore ortografico vediamo quindi programma di elaborazione testi questo intanto lo chiudiamo vuol dire nel nostro caso Word eccolo qua F7 premo F7 lancia il controllo ortografico strumenti di correzione questo è un antibiotico per cui ci sono tutti i nomi strani e qui devo agire e dirgli no ignora questa volta qui faccio la correzione a tutti gli effetti provo Mauro dice meno male che ci sono solo 12 tasti sì infatti me ne ricordavo due e basta spero dopo questa esperienza di ricordarmene ma tanto per dire quella cosa di F4 di Excel probabilmente me ne ricorderò perché lo faccio spesso e mi scoccia a dover fare questa cosa vediamo cosa dice Mauro nel mio portatile F6 aumenta il volume anche per te Mauro premendolo in una maniera aumenta il volume premendolo insieme FN farai il comando F6 oppure se già lo premevi insieme FN premilo da solo quindi nei portatili un tasto funzione ha due comandi nel tuo caso uno alza il volume l'altro fa la voce F6 che abbiamo qui in Windows però per cambiare la modalità del funzionamento di F6 e di tutti gli altri F o devi tenere premuto FN e premere F6 o non devi tenere premuto FN e premere F6 a seconda della combinazione fai o il volume o quell'altra cosa che ci dicevamo di F6 e quindi magari dici in quale modo funziona l'F6 che diciamo noi ciao Isaia so che vai a presto ciao ormai abbiamo finito anche noi e comunque vediamo cosa dice Oscar questa funzione del correttore test la fa anche su LibreOffice il tasto F6 no attenzione il tasto F7 il tasto F6 così che faceva prima non mi ricordo già più nei browser si mette là sopra questo è il tasto F7 correzione testi dicono nei programmi di videoscrittura abbiamo qui LibreOffice quindi chiudo rimpicciolisco Word vado su LibreOffice eccomi qua tasto F7 correzione ortografica controllo ortografico terminato qui tutte le parole sono giuste sono tre e quindi è giusto per cui sì anche in LibreOffice basta provare vediamo cosa dice Francesco i comandi di Excel sono uguali con quelli di LibreOffice Calc non lo so qui a questo punto dovremo provare ma se sono furbi sì quindi proverei anche su quello Simone a me su F7 c'è il simbolo dell'aereo quello significa modalità aereo che il tuo computer si disconnette da internet per cui se lo premi adesso chiudi la diretta chiudi tutto serve per andare in aereo cioè toglie tutte le connessioni e quindi non si collega più a internet poi ripremendolo torna a funzionare normalmente però quello fa parte dell'altra funzionalità dei tasti FN del tuo computer chi invece ha la tastiera estesa computer fisso ha solo i tasti FN non ha quella cosa lì vediamo le ultime chat Mauro perfetto con FN più F6 fa quello che dici tu bene bravo computer Aisha ho dimenticato le email del Microsoft e la password è un guaio un guaio grosso è una delle due cose almeno devi cercare di fartela venire in mente se no puoi provare a rivolgerti a un tecnico ma così a distanza non riusciamo a fare a fare niente bene ragazzi bello Marco dice allora il tasto aero non serve a far volare direi che per questa sera siamo arrivati al nostro cosa ci mancano dai tasti F8 in avanti che ci teniamo probabilmente per la settimana prossima e quindi portate pazienza provateli e vediamo a cosa servono chiudo un po' di programmi prima di salutarci perché sapete che dobbiamo chiudere un po' tutte le finestre prima di chiudere tutto quindi voglio chiudere non salvo non salvo e non salvo e anche qui chiudo senza salvare in cui riduco un po' di programmi vedo che siamo già ai saluti ah no vediamo ci sono delle altre domande l'ultima dai vediamo perché la scritta sulla maglia è invertita domanda molto interessante allora e qui vi rispondo perché cosa succede io sono davanti alla telecamera ed è come se fossi allo specchio per cui cosa succede quando dico qui sulla sinistra indicando qui sulla sinistra dello schermo è come se fossi sullo specchio dovrei invece fare le cose invertite e dire qui sulla sinistra però non mi viene naturale di muovermi come se fossi lo specchio cioè la telecamera mi vede nella realtà quindi è tutto al contrario di quello che dico mentre invece ho attivato la modalità specchiata quindi lei mi vede proprio per come sono e mi ritrasmette per come sono e quindi la scritta è come quando io sono allo specchio cioè la scritta viene specchiata e si legge male per cui devo essere più furbo in futuro e prendere magliette senza scritta così questa cosa non si vede quindi io posso indicare con facilità ci ho provato a fare al contrario ma a un certo punto ho detto no ma senti scambiamo la modalità della telecamera perché così mi risulta più facile ci vediamo con gli amici della conferenza più tardi in conferenza come al solito grazie ragazzi per le super chat importantissime per noi grazie per i mi piace sono tanti questa sera grazie infinite grazie per tutte le domande per tutta la partecipazione alla chat che fa viva questa diretta quindi rende rende valido fare questa cosa in diretta ci vediamo in diretta alla sera il martedì per chi può per chi vuole vedere il corso base in diretta il giovedì alle 16 e come sapete tutti i giorni sul canale con un video nuovo domani vedremo cosa uscirà oggi è uscito Excel domani ci pensiamo e ci vediamo presto sul canale fatemi andare nella schermata dei saluti prima di salutarvi ora ci sono e sono pronto per premere una combinazione di tasti che manderà la schermata dei saluti ciao ragazzi grazie ciao